Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, oggi parliamo di come promuoversi, come promuoversi sui social parlerò fondamentalmente di come promuovere il proprio libro ma va bene per qualsiasi cosa, non ci sono particolari differenze non sai che vuoi lì? Nessun problema, qui in descrizione troverai il link al video dove spiego chi sono, cosa faccio, di cosa mi occupo allora prima di cominciare ricordatevi che devo fare il video dei 100.000 follower, è già lì in bozza, un'idea c'è già quindi dato che siamo ancora un pochino distante dei 100.000, mi raccomando iscrivetevi sotto e soprattutto pigiate sulla campanella come se non ci fossero domani, così riceverete delle informazioni ogni volta che pubblico un nuovo video sto pubblicando tanti video uno via l'altro e il tempo dobbiamo pure impiegarlo in questo periodo cercherò di essere breve e sintetico e il più preciso possibile così da potervi aiutare quando fate qualsiasi attività naturalmente lo fate per farvi conoscere nel caso specifico quando scrivete un libro ovviamente la vostra speranza è quella che tanti lo compiono, leggano e siano felici e che voi li abbiate fatti felici perché leggere è una delle cose più belle del mondo ma tutte queste cose dobbiamo pianificarle, pianificarle nel modo migliore allora io parto dal presupposto che siate dei nuovi autori, fondamentalmente non abbiate un'agenzia di comunicazione al vostro servizio oppure che abbiate pubblicato con una casa editrice ma che non ha le possibilità di poter spingere più di tanto il vostro libro e quindi dovete fare da voi allora la prima cosa importante, fondamentale è che non è che voi arrivate, pubblicate il libro oggi e da domani decidete di fare una promozione no, no, non si fa così perché avete buttato via tutto il vostro tempo quando cominciate a pensare di scrivere un libro dovete anche cominciare a pensare alla promozione in modo tale di non trovarvi nel momento in cui uscite assolutamente a secco come dobbiamo comportarci per prima cosa ricordiamoci che lo spam è vietato, assolutamente vietato più fate spam e più le persone vi odieranno e quindi il vostro libro non lo comprerà nessuno poi vediamo quali sono le attività più spammose e più noiose io comprendo benissimo che non tutti, anzi la maggior parte delle persone non sono esperte di social media marketing è difficile, ci sono infatti dei professionisti che lo fanno però è anche vero che rivolgersi ad un professionista per fare queste cose è costoso e normalmente una persona che pubblica un libro dalle royalties del libro non guadagna un granché quindi non guadagna senz'altro a sufficienza per potersi permettere un professionista o un'agenzia che vi possa seguire quindi, ho torto collo, siamo costretti a fare le cose a umma a umma, cioè da noi stessi quali sono gli errori che spesso vengono compiuti dai neutori? il primo errore che viene compiuto è quello di aprirsi una pagina col titolo del libro perché è un errore? perché poi l'idea è quella di scrivere un nuovo libro, si spera e quindi cosa facciamo nel momento in cui il nuovo libro è un titolo diverso? buttiamo via tutto il lavoro che abbiamo già fatto? sì, buttatevi tutto il lavoro che avete già fatto allora cerchiamo di non buttarlo via quindi se volete aprire una pagina apritela magari col vostro nome e cognome in questo modo la potete utilizzare per tutti i libri che andrete a scrivere ma anche per tutte le cose che vorrete promuovere vedo diverse persone che modificano il proprio profilo nome e cognome, scrittrice, scrittore lasciate perdere, lasciate perdere prima perché fa ridere cioè io quando vedo questi profili a me viene da ridere ma chi sono? quando si parla di vanity press cioè per chi pubblica con casa di trice pagamento a voi tutti vien da ridere ma a me viene da ridere anche quando leggo pingo pallino scrittore è sempre vanità scrittore non te lo dici da solo lo decideranno gli altri se è uno scrittore o una scrittrice quindi evitate queste cose poi usare il proprio profilo ha delle limitazioni perché un profilo può avere massimo 5000 follower io vi auguro invece di aver tanto successo e quindi di avere tantissime persone che seguano la vostra pagina ma cosa dovete pubblicare sulla vostra pagina? questo vale per tutti i social network ogni social network ha una grammatica diversa però fondamentalmente il concetto vale per tutti se poi volete approfondire ci sono un fiero di professionisti che vi raccontano come utilizzare il singolo social network sulla pagina vedo l'errore più comune che fanno tutti è quello di mettere la copertina del libro il titolo del libro l'estrato del libro pezzi del libro ragazzi è noioso chiunque arriva lì dopo 3 secondi prendersene va perché è noioso voi dovete dare informazioni interessanti per i vostri fan per i vostri fan perché li chiama così facebook ma comunque per le persone che vi seguono voi dovete dare informazioni interessanti per le persone che vi seguono quindi non fate pagine dove parlate del vostro libro e nient'altro perché a nessuno gli ne fregherà nulla non sa chi siete non conosce il vostro libro non gli frega proprio niente raccontate delle vostre esperienze scrivete qualche bel racconto o andate a cercare informazioni per esempio sul mondo editoriale date informazioni che siano di interesse che quindi una persona abbia la voglia di seguirvi perché può imparare qualcosa poi ogni tanto ricordate guardate che ho scritto il libro sto scrivendo questo libro magari trovate informazioni che sono coerenti con quello che sto scrivendo nel vostro libro quindi date queste informazioni in più allora le persone si annoieranno meno si stuffranno meno e sarà più facile che nel momento in cui pubblicherete il vostro libro effettivamente potrebbero comprarlo lo so che voi state dicendo ma che cazzate sta dicendo io devo vendere il mio libro e il vostro libro lo vendete non parlando del libro è questo il discorso fondamentale voi non dovete parlare del vostro libro non dovete parlare di voi stessi non dovete parlare del vostro ego dovete dare qualcosa di utile in tema con quello che state scrivendo alle altre persone a questo punto queste persone saranno felici poi di poter comprare e leggere il vostro libro ricordatevi che naturalmente dovete cercare di scrivere al meglio queste cose se scrivete dei brevi racconti devono essere scritti bene devono invogliare le persone a dire ah guarda questa persona come scrive bene se scrive così bene anche il suo libro sarà proprio interessante da leggere ecco questa è la cosa fondamentale e non dovete partire il giorno dopo che avete pubblicato il libro ma dovete partire con largo anticipo quando ancora state programmando il vostro libro perché ci vuole del tempo a creare una fan base ci vuole del tempo a creare persone interessate nella vostra nicchia se lo fate subito dopo che avete pubblicato il libro perderete il vostro tempo dovete crearvi una pianificazione editoriale cioè dovete avere bene o male l'idea in base al vostro tempo quante volte potete pubblicare al giorno alla settimana al mese e farvi un elenco di argomenti che volete trattare in questo modo sarà tutto più facile per voi se lo pianificate in anticipo riuscirete a fare queste cose molto bene ok adesso è uscito il libro cosa devo fare? allora la prima cosa che non dovete fare è prendere il link di Amazon o del vostro libro e cominciarlo a spammarlo a tutti i vostri contatti tramite Messenger oddio perché non devo farlo in fin di conti non faccio nulla di male non disturbo nessuno no disturbi tantissime persone facendo questa cosa le persone fondamentalmente si incazzano le più gentili ti ignorano le altre magari ti rispondono male ma quella che sarà una costante è che nessuno di queste persone sarà interessato a comprare a leggere il tuo libro eh ma se non glielo dico a tutti come faccio? eh te l'ho già spiegato come fare no? cominci a informare sulla pagina che avrai creato che stai che il tuo libro finalmente è in edicola senz'altro se hai seguito i miei suggerimenti i miei consigli ci saranno persone interessate a leggerlo interessate a comprarlo piccolo trucchetto allora per pubblicare un libro la teoria dice che lo scrivi gli fai un editing con un editor professionista possibilmente poi fai una correzione di bozze e poi lo fai disegnare una bella copertina da un grafico e poi lo pubblichi tutto questo se fai in autopubblicazione ricordatevi non sto parlando di casitrice pagamento sto parlando dell'autopubblicazione quella che normalmente si fa su su Amazon allora qual è questo trucchetto? il trucchetto è semplice Amazon fa leggere le prime pagine dei libri la breve anteprima ecco almeno quelle curatele da Dio se non potete fare un editing perfetto se non potete fare la correzione di bozze se non potete guardare con attenzione quello che fate su tutto il libro almeno le prime pagine controllate che non ci siano errori grammaticali che fili tutto correttamente perché quello è una discriminante molto importante io quando vengono proposti dei libri in autopubblicazione la prima cosa che faccio andare a guardare l'estratto su Amazon e nel 99,9% dei casi fanno schifo fanno schifo io non sto parlando di quarta di copertina di sinossi io sto proprio parlando della parte del primo capitolo che viene mostrata da Amazon almeno quella curatela nei minimi dettagli fate in modo che non ci siano errori ortografici fate in modo che la lettura sia scorrevole fate in modo che sia perfetto almeno quelle pagine poi dopo magari il resto fa schifo la gente l'ha comprata e dice oddio che schifo non comprerò più niente di questo autore autrice vabbè quello è ovviamente il rischio che si corre se si fanno le cose male però almeno qualcuno interessato a leggerlo lo trovate se almeno curate molto bene questa parte la copertina è fondamentale la copertina è uno strumento di vendita molto importante se la copertina fa schifo molte persone la scarteranno senza neanche andare a leggere la quarta copertina quindi ricapiturando niente spam niente spam niente spam potete naturalmente scriverlo sul vostro wall sul wall del vostro social network su instagram su facebook dove volete ma se ogni giorno lo pubblicate tre volte al giorno la gente vi toglierà l'amicizia oppure non lo vedrà neanche più perché non gliene frega ribadisco voi dovete creare esattamente come un un libro dove c'è un arco narrativo che comincia arriva a un determinato punto c'è il cambiamento e poi la fine la stessa cosa dovete farla con la vostra comunicazione sui social network perché se la fate decentemente non pretendo che la facciate bene ribadisco non siete professionisti e non potete permettervi dei professionisti perché sono molto gostosi perché il libro non dà quel tipo di ritorno ma se la fate decentemente state tranquilli che avete dei buoni risultati non dovete dar fastidio ai vostri possibili lettori non dovete vedere le persone che vi seguono come degli idioti che tu gli mandi il link e loro vanno a vederlo no perché si incazzano si incazzano appena successo appena visto mi è venuto per quello di fare questo video però non è piacevole ricevere in privato il link del libro non appena ti ha chiesto amicizia è la stessa cosa di quelli che ti chiedono l'amicizia e poi ti spammano subito il link della pagina io non so dove abbiate imparato ho detto che si fa in questo modo ma è sbagliatissimo perché si ottiene esattamente il risultato contrario detto questo io spero che voi seguendo questi consigli otterrete grandissimo successo ve lo auguro di tutto cuore i social network da utilizzare sono tanti c'è facebook c'è instagram google plus non c'è più non c'è più google più non c'è più c'è youtube c'è tutto quello che volete questi sono i primi che mi sono venuti in mente comunque c'è tutto quello che volete io sto seguendo questa sto proprio seguendo questi consigli che vi sto dando perché ho aperto un sito che si occupa della trilogia dell'idea della trilogia dei miei libri trovate il link in descrizione che è primi maghi ho la mia pagina facebook che utilizzo per tutta la mia comunicazione ma quello che sto cercando di spingere un po' di più è proprio youtube per vedere se porta qualche risultato non so quando uscirà il mio libro non so neanche se uscirà mai però sto cercando proprio di creare questa community di persone con comuni interessi in modo tale che quando uscirà possa avere delle persone a quale comunicarlo senza infastidirle che potrebbero essere interessati a questo mi raccomando non spammate seguiti questi consigli se siete arrivati fino a qua vi ringrazio tantissimo oggi sono stato serio non ho detto le parolacce ho parlato come si deve perché mi sembrava corretto dare un'informazione il più precisa possibile se avete dei dubbi chiedete pure nei commenti se volete che io approfondisca alcuni di questi argomenti chiedetelo nei commenti lo farò ricordatevi che come vedete all'inizio devo fare il video dei 100.000 di ringraziamento siamo un po' distanti quindi iscrivetevi al canale pigiate sulla campanellina per essere informati e grazie a tutti al prossimo video ciao